Appena visto i carabinieri alla porta ha confessato di averlo ucciso a seguito di una lite per i proventi della vendita della frutta. Braccato da più di 24 ore il killer è stato arrestato. Un omicidio efferato e brutale scaturito dunque da motivi di affari. Oltre 20 sforbiciati al petto di Giuseppe Desiderio, fratello del più noto Sasao Barbiere. Dopo averlo massacrato Pasquale Balzano, detto Pasquale Opazzo, ha nascosto il corpo della vittima nel cofano della sua auto, una renoscenic. In seguito alla segnalazione della convivente erano scattate le ricerche. I militari hanno prima perquisito la sua abitazione in Via Pertini, dove viveva da solo, dopo che la mamma e la sorella erano state ricoverate in una struttura psichiatrica. La famiglia di Balzano è piuttosto conosciuta per altri fatti di cronaca e violenza. I due fruttivendoli erano inseparabili. Li avevano visti insieme anche ieri mattina al mercato settimanale di Via della Gloria. Già lunedì sera pare che i due venditori abbiano avuto un violento litigio per questioni economiche. A condurre i carabinieri sulle tracce dell'uomo non solo le dichiarazioni della compagna della vittima, ma anche altri elementi riscontrati dai militari. Tracce di sangue sono state ritrovate nei pressi del cancello del Civico 4 di Via Loporto. La morte di Giuseppe Desiderio aveva inizialmente fatto pensare ad una vendetta trasversale nei confronti del fratello, noto pregiudicato detenuto per associazione per delinquere e distorsione nel carcere di Sulmona. La mente è subito andata all'attentato del 13 luglio scorso alla sorella di Giuseppe e Salvatore Desiderio, Filomena. La donna fu gambizzata sotto casa con alcuni colpi di pistola. Un episodio ancora avvolto nel mistero, ma Giuseppe Desiderio, padre di due figli, era una persona tranquilla. Il suo omicidio si è consumato in un raptus di violenza e follia per mere ragioni economiche. Pasquale Balzano, che sbarcava in Lunario facendo anche il parcheggiatore abusivo nei pressi dell'ospedale Scarlato, è stato portato in caserma per l'interrogatorio. Grazie a tutti.